Pralline al cioccolato fondente cocco per il cioccolato day che avviene ogni anno il 7 luglio per consentire a tutti gli amanti del cioccolato di concedersi un piccolo peccato di gola con un dolcetto goloso e delizioso senza alcun senso di colpa ed io ho preparato queste pralline sfiziose fresche ricoperte con briciole di salatini di riso per creare un'armonia di sapori e deliziando ad ogni morso anche i palati più fini di grandi e piccini ma anche di vegani, vegetariani, celieci e chi è intollerante o allergico come me al lattosio, uova e grano il cioccolato oltre ad avere un sapore così buono aiuta a migliorare l'umore aumentando i livelli di dopamina e serotinina anche il cioccolato fondente è particolarmente buono e riduce il rischio di malattie cardiache abbassando la pressione sanguigna ed è una fonte potente di antiossidanti ma ora tutti pronti a mettere le mani in pasta per preparare queste pralline al cioccolato fondente e cocco troppo esaporite la ricetta completa la trovi sul mio blog incredibile ma buono